Hanno in mano pacchi di pasta, biscotti, omogenizzati, cerotti e antipiretici. Nel cuore il desiderio di aiutare persone di un altro paese che ora sono in difficoltà. Sono i bambini e i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Pascoli, che oggi hanno partecipato alla raccolta viveri per sostenere le famiglie ucraine sfollate. È stato commovente, erano felici di poter contribuire a rendere un pochino meno difficile la realtà dei loro coetanei in Ucraina. Bambini, ragazzi, genitori, tutti insieme per un unico obiettivo. Abbiamo chiesto ai nostri genitori e ai nostri alunni di portare dei beni di prima necessità. Come vi siete organizzati questa mattina? Allora, con l'aiuto delle associazioni genitori abbiamo organizzato nei tre plessi dei punti di raccolta e i bambini e i ragazzi, come vede, hanno portato generi alimentari, prodotti per l'igiene personale, prodotti per i bambini e medicinali. In questi giorni i bambini sono arrivati in classe con tante domande e la scuola risponde così, non solo educazione civica e laboratori di pace, ma anche gesti concreti. Stanno portando dei prodotti che potrebbero utilizzare per loro e in realtà li stanno donando ad altri bambini di un altro paese. Quello che le insegnanti hanno cercato di fare è in qualche modo di renderli consapevoli della realtà dei bambini della loro età che da un giorno all'altro non possono più frequentare la scuola, sono costretti ad abbandonare la loro casa e devono scappare dalla guerra. Qual è la destinazione di tutti questi viveri? Saranno portati al Consulato Generale dell'Ucraina e da qui saranno portati in Polonia e smistati nei centri di raccolta delle persone sfollate nell'Ovest dell'Ucraina. Come hanno risposto i bambini a questa iniziativa? Erano molto emozionati e compiti, per loro era un gesto importante. Grazie a tutti.